La verità è come un leone, non avrai bisogno di difenderla, lasciala libera, si difenderà da sola, Sant'Agostino. Questa è una bellissima indicazione, la verità è come un leone, questa verità che spesso e volentieri non vogliamo accettare nella nostra vita perché ne abbiamo paura. La verità in effetti può incutere questo sentimento di paura perché ci costringe a chiamare le cose per nome, ci costringe a dire dove ti trovi in questo momento, dove sei in questo momento. Sei nella verità dell'amore, nella verità della libertà, nella verità di una volontà tesa a costruire o sei da tutt'altra parte. Nella pubblicazione dove sei ho voluto proprio fare un cammino, nel chiamare le cose con nome, nel far comprendere quali sono le tappe che ci mettono nelle condizioni di diventare delle persone veramente libere. Io credo formalmente che la libertà sia un valore assoluto, ma che la libertà non è fare ciò che si vuole, la libertà è fare tutto ciò che ci permette di divenire fedeli a ciò che siamo, allo scopo della nostra vita, ai nostri valori, ai nostri talenti, alle nostre aspirazioni più profonde. Dove sei è la prima domanda che Dio rivolge all'uomo. La prima, pensateci, come dire se tu non hai un senso d'orientamento come fai a muoverti? Ognuno di noi in realtà ha bisogno di porsi questa domanda. Dove sei rispetto al progetto felicità? Dove sei rispetto alla possibilità di rendere fertile la tua vita? Di poter guarire da una ferita? Di volerti davvero bene, ma bene veramente col cuore, bene con l'anima, bene concreto? La verità è che solo un'azione vale più di mille pensieri. Se noi non impariamo ad agire, corriamo il rischio di passare tutta la vita nelle nostre cosiddette elucubrazioni mentali, ma non andremo molto lontano. Dove sei è un richiamo, non è una condanna. Dove sei è l'invito a percorrere un cammino di salvezza, a non restare nascosto dietro il cespuglio delle tue paure, dei tuoi sensi di colpa o di quello che non sei riuscito a compiere sino ad oggi nella tua vita. Dove sei rispetto alla possibilità che hai di essere come un'alba, che irradia tutta la sua luce a tutto ciò che incontra, invece di vivere in quelle notti dell'anima dove sembra che ci sia solo oscurità dentro e fuori di te, dove sembra che la rassegnazione, l'inutilità del vivere sia non l'unica ragione di un inutile vivere. Dove sei è dunque una domanda che ci può aiutare a ritrovare l'equilibrio, l'armonia e la serenità. Tre parole importanti, tre parole che donano stabilità, che donano una solidità dentro di noi, che ci mettono nella condizione di trovare finalmente un punto di equilibrio su cui regolare tutte le funzioni del nostro essere e del nostro fare. Desidero concludere questa breve riflessione leggendovi queste poche parole. Lo scopo della vita si realizza nella fedeltà a se stessi e nel mettere al servizio del prossimo le ricchezze dell'essere. Questo è proprio quello che dovremmo tutti quanti noi cercare di fare. Quando troviamo la ricchezza dell'essere, cioè della persona che siamo, abbiamo trovato il tesoro, abbiamo trovato quello che veramente conta, abbiamo trovato finalmente il nostro centro di gravità permanente. E il viaggio continua. Grazie.